Rosse cerca anche di dialogare con il compagno, un motto che non l'avevo mai visto così. Jimenez dentro per Giaccherini, attenzione una gran palla a Giaccherini, e la palla sul palo e poi alto. Incredibile, incredibile errore di Giaccherini, abbiamo rischiato tantissimo la palla in profondità. Attenzione ancora il legge, ovviamente è visto a tutti quello che è successo, l'errore incredibile. La palla in profondità, il tocco, palo, si ritrova davanti la palla e la svirgola completamente. La svirgola completamente. Siamo stati graziati, ragazzi, siamo stati graziati e adesso allora ulteriormente dobbiamo andare a cercare il raddoppio.